Sì, lo trovi? Eh, divertigiorno. Che cazzo? Mi c'era? Chi? Chi mi chiama? Sì, lo trovi. 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 terra e lo faremo la sua No, no, no. c'è Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 ah finalmente come devo parlare da qui? ma che cacchio? si lo vedo no e basta ma il me butta ma qui capo perchè non ha fatto bene va bene va bene basta basta ma porca miseria ok non è proprio il perfetto eh lei scende col sul canubi eh certo non ce l'abbiamo bravissimo link eh che faccia fatevi dicendo che succede? mamma mia quando si è cotti sono proprio cotti hai vinto è un tempo meraviglioso questo vento che c'è a vedere mamma mia il miele ti andrebbe di fare un altro prima di tornare mi stai diventando riuscire oh dink 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 oh che una bambina ecco lupo dia ecco vedi eh vedo vedo che cazzo c'è qualcosa di malbarco dai dai porco mio è sempre carino oh è di ufo e questo salve il po adesso gli spiegherà adesso ecco Noi gli spiegelati, senza l'applicazione. Anche e stiglie l'applicazione. Vedi che parlo, cioè la mamma la tocca, sì sì, è che non sentiamo noi. Vedi? Normale. Che caccia? Che caccia? Sì sempre si ne to rubie Sempre mi rubie Sì 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 Non è stato si notato Sì 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 non c'è nessuno è proprio depresso pavolo padre non c'è nessuno 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 in pace senza freni si allenò come un eroe C'è una gratta su Mi dice Allora io mi chiedono qui